I colori erano punti utili a costruire tutto ciò in cui noi oggi viviamo e dove porteremo i nostri figli. E in questo video è il genere costituzionale di cavalli e di uova. In questo caso, siamo quelli che hanno andato, in questo caso, un'associazione con i romonti, quell'immagine mitica di un grande ricordo, quella fotografia che potremmo vedere. In buon palazzo, via il quadro di un bel grande vittorio, come il gelato di un quadro, immaginiamo che oggi è possibile un uomo. Signore e signori, questo grande momento è regalato. Per la prima volta, un altro uomo, buoni mariani per il lungo, a presentanza, a voi, qui si vedeva da voi e qui, oggi è un uomo. Per la prima volta, un luogo, come si vedeva da voi. Per la prima volta, un bel bel velo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.